Eccoci e bentornati sul mio canale, oggi torniamo a parlare di Call of Duty Modern Warfare Remastered perchè è stato annunciato il primo contenuto aggiuntivo, il primo DLC del titolo prima di iniziare come sempre cerchiamo di raggiungere almeno i 300 mi piace per il prossimo video di aggiornamento sul mondo di Call of Duty. Activision da pochi minuti ha annunciato che il pacchetto Variety Map Pack che già conoscevamo su Call of Duty 4 Modern Warfare arriverà anche su Call of Duty Modern Warfare Remastered ovviamente pacchetto rimasterizzato e rimodulato in alta definizione. Sarà disponibile il prossimo 21 di marzo su PlayStation 4. Conterrà le 4 mappe che già conoscevamo ed erano contenute nel Variety Map Pack originale, Broadcast, Chinatown, Crick e Kill House. La mappa che mi piaceva di più di questa era Broadcast che era, se ben vi ricordate, la missione della campagna nella stazione TV. Le 4 mappe saranno disponibili al prezzo di circa 15 euro quindi come un classico DLC ed inoltre ci saranno dei bonus e 10 lanci di rifornimenti rari da poter aprire. Il DLC è possibile preordinarlo su PS4 che come vi dicevo accoglierà il primo DLC del titolo il 21 di marzo e facendo il preorder avremo anche 10 lanci di rifornimenti rari. Al momento non c'è nessuna informazione per quanto riguarda la data di rilascio su Xbox One e PC. Fatemi sapere che cosa ne pensate e quali di queste 4 mappe storiche vi ricordate dell'epoca e non vedrete l'ora di provarle e giocarle in alta definizione su Modern Warfare Remastered. E noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.